Eugenio, è il tuo momento, io farei una breve recensione. Sì, brevissima, e ho scelto l'ultimo libro della Susanna Tamaro, La tigre e l'acrobata, perché è un'autrice che mi pare che dopo il suo grande successo di Va dove ti porta il cuore, milioni di libri in tutto il mondo, sia stata un po' e anche un po' ingiustamente dimenticata, messa da parte. Lei adesso è passata con la nave di Tesio, come vedete questa nuova iniziativa editoriale, che ha accolto appunto un suo racconto fantastico per adulti. Ecco, questo è un aspetto molto particolare, lei considera questo genere il più difficile di tutti, e questo testo che racconta, ma brevemente, di una tigre siberiana che rifiuta, come dire, la legge di natura che la vorrebbe la regina, che vorrebbe appunto assegnare del potere, rifiuta questo per invece scegliere la libertà e anche la curiosità, no? In cambio, chiaramente perde qualcosa, ma conquista anche molto nelle sue peripezie, che poi immaginerete, e sicuramente il momento principale è l'incontro con l'uomo, no? Quest'uomo che le avevano detto, insomma, se vuoi mantenere il tuo potere evita l'uomo, lei invece decide di andare incontro, di conoscere l'uomo, e la sua vita sarà assegnata da questo, e la sua evoluzione, anche direi spirituale, la sua crescita, dipenderà anche da questo incontro con l'uomo. L'uomo che, la Tamaro dice, è come un piano inclinato, no? L'uomo tende al male, però ci sono delle eccezioni, come l'acrobata, ma non solo, di uomini che invece sono capaci, attraverso uno sforzo, di tendere al bene. Questo libro, come sempre, questo libro da Tamaro, è fatto di parole semplici, ma messe al posto giusto. Questa è un po' la caratteristica, secondo me, di questa importante scrittrice italiana, tra l'altro nipote di Svevo, pochi lo sanno, ma è nipote di Svevo, molto influenzata dalla cultura mittele-europea. Quello che mi interessa in questo libro, la cosa più interessante, vi cito giusto una frase e poi chiudo, tristi le vite che non incontrano mai una parete, dice a un certo punto. Ecco, credo che questo sia importante, cioè la capacità di scegliere e di affrontare gli ostacoli che la scelta ci pone. Stai mettendo le mani avanti per quello che accadrà dopo, scusa di capire. Paolo, sì, esattamente. Allora, ho dimenticato di dirvi una cosa importante, questo progetto nasce da un sito, che è letturemetropolitane, trovate ovviamente a letturemetropolitane.it e poi alla fine vi diremo bene tutti i contatti.